Oh! Finalmente, finalmente, oggi giornata importante, anniversario di fidanzamento tra me e mia moglie, perché il matrimonio e l'anniversario sarà il 31 di marzo, quindi abbiamo fatto tutto molto veloce. Questo è un video per far capire a tutti quello che è per me mia moglie Sonia. Allora, intanto, amore, ti faccio gli auguri per questo anniversario e ti volevo dire, e ripeto, non è facile per me dire certe cose in video, soprattutto che vedranno tutti, per me sei stata, sicuramente la sola persona che mi ha fatto perdere la testa, la sola persona che mi ha potuto mettere delle briglie, perché ho comunque un carattere in certe volte indomabile, sovversivo, particolare, no? Particolare è un eufemismo, un carattere molto molto difficile. Non che mia moglie non ce l'abbia difficile, però è stata, lei è stata veramente l'unica persona a sapermi gestire. E gestire me è veramente una cosa difficile, difficile anche perché comunque i trascorsi che ho avuto, le mie problematiche con la giustizia, le mie problematiche a livello sociale, a livello di amicizie, tutto, lei è sempre stata presente, mi ha dato una cosa più bella che si potesse desiderare, una bambina stupenda, un matrimonio stupendo, nonostante fossimo un po' intimi, ma poi lo faremo quando ci sposeremo non solo in comune ma anche in chiesa, non ci sposeremo in chiesa ma ci sposeremo sulla spiaggia come è sempre voluto mia moglie. Quindi quando poi sarà avviserò tutti quelli che vorranno venire a partecipare. E un'altra cosa, mia moglie è l'unico stimolo che ho avuto per non mollare su YouTube, per andare avanti nonostante tutti contro, avessi tutti contro, siamo rimasti a un certo punto solo io e mia moglie e tutti gli altri erano contro, cercavano di bloccare il nostro cammino sia su YouTube e tante persone anche nella nostra vita privata, hanno avvenuto a metterci tutto e tutti contro, però noi siamo andati avanti, siamo andati avanti come fa una coppia che si ama, che si rispetta e che nonostante tutte le difficoltà che abbiamo avuto siamo sempre andati avanti a denti stretti senza paura del domani e senza paura di nessuno. Quindi ti dico amore, spero di farne altri cento di anni così, altri mille e una cosa è certa, a me nessuno potrà mai farmi cambiare idea sulla persona che sei e credo che nessuno ti farà cambiare idea a te sulla persona che sono io. Adesso ci conosciamo meglio, all'inizio era più difficile perché ci eravamo appena conosciuti, abbiamo fatto tutto di corse, è successo tutto veloce, abbiamo voluto subito la bimba, abbiamo voluto subito un matrimonio, abbiamo fatto le cose forse troppo veloci, però col senno di poi ti dico che rifarei tutto da capo perché comunque questo ci ha portato a avere i problemi all'inizio ma ora sarà tutto più facile, tutto in discesa perché comunque ci conosciamo bene. Quindi ancora auguri, amore, ti amo e resta sempre quella che sei. E mi raccomando, lavora sul canale perché devi mettere i link, tutte le cose, devi bannare chi rompe i coglioni, mi raccomando incitare a mettere i like e iscriversi. Fino alla fine, forza Juve, che quello va detto sempre, ti amo. Ciao, amore.